Siamo contenti del risultato tenuto, anche perché il paese è molto piccolo, una trentina di abitanti durante l'inverno e il nostro risultato è stato dovuto alla collaborazione di tutti quanti e ci tengo a ringraziare veramente tutti quelli che hanno votato per il borgo di Rocca Tagliata. Quinto più votato in Liguria, terzo per la sezione regionale Borghi, 87esimo nella classifica nazionale. Per il borgo medievale di Rocca Tagliata di Neirone, il giorno dopo la pubblicazione dei risultati della raccolta firme I luoghi del cuore del FAI, resta l'emozione di un risultato forse inatteso, ma per il quale ci si è spesi tanto. Abbiamo lavorato tanto, c'è stato l'impegno di tante persone, però forse sì, un po' ce l'aspettavamo, ma forse abbiamo ottenuto qualche voto anche di più di quello che potevamo pensare di ottenere. Abbiamo partecipato per promuovere e far conoscere il nostro borgo, che era terra dei fieschi. Sì, quindi avevamo il castello, adesso abbiamo un parco archeologico che ha posizionato dove c'erano i rasti del castello. A fatica, cerchiamo di valorizzarlo. Pubblicata la classifica del censimento, si apre ora la seconda fase dei luoghi del cuore, tutta rivolta agli interventi. A marzo il FAI lancerà un bando per raccogliere i progetti di intervento che verranno sostenuti. Potranno presentarlo, attraverso enti proprietari, tutti i luoghi che hanno raggiunto la soglia minima di 2.500 voti. Oltre che alla Basilica dei Fieschi, arrivata sesta a livello nazionale, potrà farlo anche il borgo di Roccatagliata. Ci pensiamo, cercheremo di vedere cosa si può fare. Comunque noi siamo già contenti così del risultato, della visibilità che stiamo dando al paese. Questa appunto, la visibilità, è quello che vi ha spinti a partecipare alla raccolta firma? Sì, noi facciamo tutte le nostre iniziative, hanno solo questo scopo, quello di far conoscere il nostro borgo, di valorizzarlo e tenerlo in vita.